Buongiorno e benvenuti allo Spoglioss Hermanos del 29 di luglio Oggi partiamo con un compleanno speciale per tutti quelli della mia generazione che amano la musica house e musica techno E' colui che ci ha fatto vibrare più di altri E' il compleanno di Carl Cox che compie 62 anni Auguriciccio! Lo stesso giorno ma nel 1965 i Beatles fanno uscire il loro secondo strano film Che è Help Help, I need somebody, help, not just anybody, help Nel 1967 partono tre settimane in cui i Doors sono al numero uno della single list americana con Light My Fire in una versione più estesa con una parte musicale, guitar solo più estesa Ragazzi mettete il follow a The Music Persuaders A voi non costa nulla, per noi è molto importante A domani!